Ancora in diretta da Corso Umberto I, Festa del Fumo con il signor. Pietro Girda. Senta, com'è fatta questa macchina qua? Che sembra un cestello di una lavatrice. Un cestello di una lavatrice industriale. Senta, materiali che avete usato? Perro e acciaio. Perro e acciaio. Ti piacciono le castagne, Fofò? Se le castagne buone vuoi assaggiare, dall'ODP devi andare. Pietro e Paolo. Un nome e una garanzia. Grazie, buon lavoro. Guardate. Che geniale, eh?